Domenica 2 giugno la scuderia 2F Racing, libera da impegni agonistici, ha organizzato in collaborazione col club Montalbano Auto Motostoriche la seconda edizione di un evento rivolto alla solidarietà, ovvero un'esposizione statica di auto sportive presso il parcheggio del supermercato Conat Cintolese in via Francesca a Monsummano Terme, Pistoia. Il tutto a favore dell'associazione Insole, un'associazione down di Pistoia sorta nel marzo 2003 e che opera a livello provinciale. Un'associazione che non ha scopo di lucro e si ispira ai principi di solidarietà e persegue esclusivamente finalità solidali e da fine evento ha beneficiato dei contributi raccolti che saranno utilizzati per l'attività rivolta verso persone con handicap. Ecco nel servizio che ci ha inviato Linea Visiva le immagini che testimoniano attività ed evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.